Arriva una squadra, una grande squadra, una squadra che ha una sua identità precisa, che nel giorno di andata era secondo insieme alla Roma, che ha fatto secondo me un gran campionato, che ha una qualità importante e noi abbiamo preparato come tutte le squadre che incontriamo sempre con gli stessi presupposti, quindi la voglia di capire cosa sviluppano bene per poter cercare di fargli male. Non temo l'avversario di turno, so riconoscerne come sempre le qualità, è una grandissima squadra, che è una squadra che ha una identità precisa, in questo campionato credo che non ci siano tantissime squadre che abbiano portato avanti un progetto dal punto di vista tecnico-tattico, per me che faccio l'allenatore e che sono affamato di vedere magari proposte tecnico-tattiche, per me il Milan è una squadra che ha una sua identità precisa, che è in grado di metterti sempre in difficoltà perché sfrutta l'ampiezza di campo con tutti gli effettivi, è una squadra che veramente occupa gli spazi molto bene, ha abili palleggiatori e ha una qualità importante davanti, soprattutto adesso con i due esterni che sono Suso e De Lofeu, sono veramente imprevedibili, sono capaci tecnicamente e quindi è una squadra che già l'avevamo visto all'andata, dovremmo essere secondo me più coscienti del fatto che all'andata eravamo a San Siro, qui siamo all'Ocida e quindi forse in questo percorso che abbiamo fatto stiamo interpretando meglio anche le altezze di campo come pressione, non sempre scegliamo di affrontare le squadre avversarie solo con un tipo di pressione. È chiaro che stiamo parlando di una squadra che come non rispetti alcuni equilibri ti può fare molto male. Il Milan è una squadra a cui piace palleggiare, piace tenere il controllo della partita attraverso la gestione della palla che non sempre è velocissima ma sono talmente abili tecnicamente e mettono in atto delle rotazioni dove bisogna essere veramente bravi ad arrivare sugli appoggi nei modi, nei tempi giusti. Oppure bisogna essere disposto a rischiare qualcosa, quindi noi abbiamo preparato delle contromosse che possa comunque mettere nella condizione di fare il nostro gioco perché ormai lo stiamo facendo e anche molto bene e con secondo me una qualità anche nei tempi che è decisamente migliorata. Allo stesso tempo dovremmo essere coscienti che loro sono veramente molto abili a interpretare la partita non solo attaccandoti frontalmente ma cercando di aggirarti anche i fianchi, quindi con diversi cambi gioco. Noi siamo comunque nella condizione, nella convinzione di voler fare qualcosa di straordinario e rischiare tutto quello che possiamo rischiare mantenendo i nostri equilibri e la nostra identità. Interpretando la partita nel tempo perché sappiamo benissimo che non è mai facile recuperare ma sappiamo altrettanto benissimo che nulla è impossibile, ormai ce lo siamo dimostrato. Certo non è facile e non sarà facile, infatti io mantengo sempre il mio aplomb perché so benissimo che è davvero molto difficile, che i ragazzi devono essere coscienti di dover fare ogni partita da quella fine qualcosa di incredibile, anche per le partite che ci sono. Noi incontriamo il Milan e altre incontrano probabilmente partite dove gli obiettivi non sono così specifici come tra noi e il Milan. È una partita difficile, noi bisogna dimenticarci l'altra partita con l'Inter perché è tutta un'altra storia. Il Milan è arrabbiato perché ha perso punti con l'Empoli in casa che era una partita che doveva vincere quindi verrà qua con le giuste motivazioni, però troverà un Crotone che sicuramente avrà più motivazioni del Milan questo è sicuro. Per noi sono tutte partite decisive, ovviamente ora affrontiamo il Milan e per noi questa è la partita decisiva. Sicuramente adesso anche con i risultati, il morale, vediamo che ci riescono le cose che prima non ci riuscivano i risultati alla fine sono quelli che ti danno quella cosa in più che è continuare che ti fa vedere che raccoglie i frutti che hai lavorato di tutto l'anno e ora anche con un pizzico di fortuna perché il giorno di andata ci sono state partite in cui prendevamo due tiri in porta e ci facevano un gol e uno fuori gioco però ce lo facevano. Ora invece abbiamo preso, anche con la Samp, abbiamo preso 4-5 di rinporta, due fuori, tre parate di corda è un momento che ci sta anche girando un po' bene e per fortuna mi autopallo, ho pregato. Amen. Quando arrivano i risultati il lavoro è più semplice, senti meno la fatica, non vedi l'ora di essere subito la domenica dopo per rigiocare, hai più motivazioni. Siamo partiti con entusiasmo, però ovviamente siamo tanti giovani, alcuni non avevamo mai fatto la Serie A quindi è stato difficile calarsi, soprattutto il giorno di andata. Questo è un piccolo rammarico perché se avessimo fatto il giorno di andata come quello di ritorno a quest'ora si parlava di tutt'altra cosa.